Caccia all'uomo tra le risaie e i boschi del Bercellese dopo la clamorosa evasione di due uomini dal carcere di Bercelli, avvenuta nella notte di San Silvestro. Posti di blocco in tutta la regione, attenzione elevatissima anche nel nostro territorio, mentre uno dei due detenuti è già stato rintracciato e riportato in cella e ancora a piede libero, Cristian Mechilli, albanese di 27 anni. Mechilli era in carcere per scontare una pena fino al 2029, per essere uno dei componenti degli ICE ACE, occhi di ghiaccio, la banda di rapinatori che nel novembre 2018 assaltò molte ville, tra le quali quella dell'imprenditore Alessandrino Riccardo Coppo a Cellamonte. In carcere dal maggio 2019, grazie al lavoro degli investigatori dei carabinieri di Casale, Mechilli era stato condannato a dieci anni di reclusione. A dare notizia della clamorosa evasione annunciata dal sindacato di polizia penitenziaria, che denuncia anche gravi falle sulla sicurezza delle carceri piemontesi. Se qualcuno dovesse avvistare l'evaso, chiami immediatamente i carabinieri di Biella.